salve in questi giorni sto lavorando questa piastrella gigante e vorrei farne una copertina da neonato lo schema l'ho trovato in internet ed è questo molto carino è molto bello se lo lavorate anche a due colori e è molto semplice perché una volta arrivata all'ultimo giro lo potete continuare sempre lavorando allo stesso modo fino a raggiungere la dimensione che più desiderate oggi vorrei farvi vedere come lavorare questa piastrella e poi vi ricordo che lo schema lo troverete anche sulla sul post che farò sul blog lo spazio di lilla e quindi potrete stamparlo dunque partiamo dall'inizio facciamo un circoletto magico un cerchietto magico 3 catenelle più una dunque sapete benissimo che le 3 catenelle iniziali stanno a sostituire una maglia alta quindi una catenella la maglia alta la catenella e questo lo ripetiamo per 1234567 volte allora iniziamo con un anellino magico e 4 catenelle che stanno a sostituire una maglia alta più una catenella divisoria dopodiché facciamo 7 maglie alte con una catenella al centro quindi una maglia alta una catenella 2 3 4 5 2 3 4 5 6 e l'ultima maglia alta con catenella tiriamo e chiudiamo l'anellino poi prendiamo nella terza maglia nella terza catenella chiudiamo con un punto bassissimo ora per il secondo giro in pratica ci dobbiamo trasferire per iniziare in questo spazio quindi facciamo una maglia bassa e iniziamo a lavorare questi ventaglietti che vedete sullo schema in pratica sono sette maglie alte e facciamo quattro ventaglietti in questo modo abbiamo abbiamo fatto la maglia bassa in questo spazio ora nel secondo spazio lavoriamo le sette maglie alte del ventaglietto una due tre tre quattro cinque 6 6 e 7 fermiamo il ventaglietto nello spazio successivo tra due maglie alte con una maglia bassa ora ora rifacciamo nuovamente un ventaglietto nello spazio successivo quindi di nuovo sette maglie alte una 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 ok fermiamo questo ventaglietto con una maglia bassa nello spazio successivo ora non ci resta da fare che altri due ventaglietti quindi continuiamo ok 3 4 5 6 7 l'ultimo ventaglietto e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che abbiamo fatto ora vi mostro sullo schema abbiamo fatto inizialmente il cerchetto magico secondo giro abbiamo fatto questi quattro ventagli ora dobbiamo passare al giro successivo in pratica dobbiamo lavorare partendo da dove ci siamo fermati 1 2 3 e 4 catenelle poi una maglia alta 3 catenelle una maglia alta una catenella una maglia alta tutte nello stesso punto iniziale dopodiché faremo 5 catenelle in pratica che passano sopra il ventaglietto e ripeteremo questo gruppo di maglia alta di maglia alta e catenelle che andranno a formare quattro angoli della piastrellina ok quindi 4 catenelle 1 2 3 e 4 una maglia alta andiamo sempre lì nel punto in cui abbiamo chiuso il giro precedente quindi una maglia alta adesso abbiamo 3 catenelle una 2 e 3 una maglia alta una catenella e una maglia alta abbiamo fatto la lavorazione d'angolo che sarebbe questa che vedete qui in fucsia ora facciamo le 5 catenelle e ripetiamo questo gruppo di maglie 1 2 3 4 5 catenelle passiamo all'angoletto successivo e ripetiamo maglia alta maglia alta catenella maglia alta 3 catenelle 1 2 e 3 e di nuovo maglia alta catenella e maglia alta coppia Per chiudere questo giro dobbiamo fare solo 2 catenelle e le altre sono sostituite da questa maglia alta che ci permette di attaccarci per chiudere il giro alle 3 catenelle iniziali e ci permette oltre a chiudere il giro anche di tornare indietro nel punto in cui dovrà ripartire il lavoro. Quindi 2 catenelle 1 e 2 prendiamo alla terza catenella di quelle iniziali ci attacchiamo per fare una maglia alta 1 e 2 In pratica così avremmo finito il terzo giro Cioè vedete che non è complicato, una volta iniziato a capire la ripetizione è molto semplice Abbiamo fatto questo lavoro adesso, la maglia alta e ci troviamo in questo punto Adesso dobbiamo fare in pratica i ventaglietti Prima di fare il ventaglietto dobbiamo fare questa maglia bassa che ci va a legare con il ventaglietto di sotto Prendendo in mezzo le 5 catenelle Quindi Questo punto dovrà essere preso all'altezza della quarta maglia alta del ventaglietto Quindi 1, 2, 3 e 4 In pratica andiamo sotto Inseriamo l'uncinetto e facciamo una maglia bassa Naturalmente dobbiamo prendere in mezzo la catenella di 5 maglie per bloccarla Ora una volta fatto questo punto possiamo partire con i ventaglietti Che verranno lavorati dentro gli spazi dei gruppi di maglie alte e catenelle laterali Quindi in ogni spazio In pratica il primo spazio sarebbe questo In ogni spazio di maglia alta, catenella, maglia alta Lavoriamo le 7 maglie alte che vanno a formare tutti i ventaglietti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Una maglia bassa nello spazio formato dalle 3 catenelle Di nuovo ventaglietto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Siamo arrivati come potete vedere alle 5 catenelle sopra al ventaglietto Quindi ricordate di fare 1, 2, 3 e 4 Questo punto Una maglia bassa Prendendo la quarta maglia Diciamo la maglia centrale del ventaglietto sottostante E ripetiamo i ventaglietti Siamo arrivati all'ultimo ventaglietto di questo giro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Questo ventaglietto in pratica viene legato, viene chiuso con l'altro Con una maglietta bassissima Vedete questo circolino Così Quindi prendiamo In questo punto La base Della lavorazione E facciamo la maglietta bassissima Ora torniamo a lavorare Il giro di catenelle e maglie alte Quindi ripetiamo come prima 4 catenelle 1 maglia alta 5 catenelle sopra Il ventaglietto E poi L'angolo Che è formato dal solito gruppo 1 maglia alta Catenella Maglia alta 3 catenelle Maglia alta Catenella Maglia alta Ora fate caso che La parte Il gruppo iniziale stavolta È formato soltanto da 2 catenelle 2 maglie alte In pratica È una catenella centrale Questo qua Andranno a formare I laterali Mentre questi Saranno sempre Il gruppo di maglie D'angolo Come potete vedere Infatti Vedete Nel giro successivo Avremo un ventaglietto In questo In questo V stitch In questo punto a V Poi Nel successivo Avremo 1 e 2 Punti a V Mentre Fermo restando Che gli angoli Saranno formati Sempre da questo gruppo Comunque Facciamo il giro 4 catenelle 1 2 3 E 4 E una maglia alta Sempre presa Nella stessa maglia Di base 5 catenelle 2 3 4 E 5 Andiamo Alle maglie D'angolo Che poi Saranno sempre Riconoscibili Perché avranno 3 Spazi E quindi Lavoreremo Una maglia alta Una catenella Una maglia alta 3 catenelle Una maglia alta Una catenella E una maglia alta Ora 5 catenelle Per questo gruppo Che non è quello D'angolo Lavoriamo soltanto Un punto a V Quindi Una maglia alta Una catenella E una maglia alta 5 catenelle Gruppo d'angolo Tra i due Ventaglietti Quindi Maglia alta Catenella Maglia alta 3 catenelle Maglia alta Catenella Maglia alta 2 3 4 5 Continuiamo in questo modo Fino a chiudere il giro Siamo arrivati All'ultima parte In cui dobbiamo collegarci All'inizio del giro Quindi Come prima Facciamo 2 catenelle Solamente Poi Una maglia alta Presa Nella terza Catenella Iniziale In modo che Torniamo Indietro Ora Per passare Al giro Successivo Dobbiamo Collegare Una maglia bassa Al ventaglietto Sottostante Vedete Infatti Vedete La X Che Rappresenta Il simbolino Per la maglia bassa E Questa Bacchettina Il prolungamento Dritto Significa Che dobbiamo Andar Prendere Fino a sotto Quindi Andiamo sotto 1 2 3 4 E Facciamo La maglia bassa Da qui Si Inizia Con I Ventaglietti Tra I punti A V A V A V prendiamolo bene perché 1 2 3 4 ok ecco qua bene ora non resta che continuare fino alla fine del giro ora sono arrivata al termine del giro uniamo l'ultimo ventaglio con il primo facendo una maglia bassissima nella maglia bassa iniziale a questo punto abbiamo completato tutta la piastrellina ora sta a voi decidere se fare tante piastrelline dei colori che preferite poi unirle per realizzare che sono copertina oppure continuare a lavorarla a continuare a lavorare la piastrellina per fare una unica piastrella gigante come sto facendo io a partire da questo momento l'inizio e la fine di ogni giro sarà in questo punto dove farete di nuovo le quattro catenelle la maglia alta di 5 catenelle per poi passare all'altra all'altro punto av le catenelle e le maglie d'angolo una volta che arriverete alla fine saprete che per fare la giuntura dovrete fare due catenelle e la maglia alta presa alla terza catenella iniziale continuate sempre in questo modo alternando un giro a ventaglietti e un giro con i punti a v bene anche per questa volta è tutto mi ringrazio di essere state insieme a me e vi auguro buon lavoro con i punti a v Grazie.